Domenica 2 dicembre dalle 9 alle 13 presso il complesso Ex Tabacchificio Centola di Ponte Cagnano-Faiano si svolgerà l'iniziativa verso il mercato della terra dei Picentini. La manifestazione promossa dalla condotta Slow Food dei Picentini costituisce un'importante occasione per valorizzare le tradizioni contadine e la realtà produttiva delle terre nostrane facendo incontrare i produttori e i consumatori. Un evento per promuovere un modello di agricoltura basato sulla biodiversità locale sul rispetto del territorio e della cultura locale che valorizza e fa conoscere i mercati gestiti dalla comunità con valori e regole condivisi.